Da Mino Reitano a Nicola Calipari, da Leopoldo Trieste fino al Maresciallo Marrari e ancora Falcone Borsellino e tanti altri personaggi calabresi e non solo che si sono distinti in diversi settori, lasciando un'impronta significativa nella società. Ad un anno dal suo insediamento la commissione toponomastica istituita dal comune Regino tira le prime somme. 96 sono le vie o piazze già intitolate a fronte delle circa 2000 senza nome. Sia noi come commissione ma soprattutto l'amministrazione nel suo insieme consideriamo un bilancio positivo perché non è semplice per venire ad un'intitolazione, c'è appunto la fase dell'ascolto, poi c'è la fase del confronto e poi c'è la fase come dire burocratica amministrativa. Riteniamo di avere proposto in queste intitolazioni dei personaggi di assoluta importanza nella storia della città. Un lavoro di riordino della toponomastica che vedrà anche targhe e grafiche diverse a seconda della zona. Il tutto a costo zero per l'amministrazione Falcomatà perché gli interventi rientreranno nel piano di finanziamento governativo dei patti per il Sud. Un percorso condiviso con i cittadini, con le associazioni, anche attraverso sondaggi fatti tramite internet, tramite social network, attraverso email che sono arrivati all'indirizzo della toponomastica che noi abbiamo accolto, noi abbiamo ascoltato e quindi tanti pezzi di storia, di personaggi che hanno dato lustro alla nostra città oggi hanno un loro nome.